Se si guarda al bicchiere mezzo pieno c'è da essere soddisfatti per aver riportato la serie a Pistoia dopo il K.O. rimediato in gara 1 proprio in via fermi. Se si dà un'occhiata a quello mezzo vuoto è evidente il ramarico per non aver conquistato la salvezza chiudendo la sfida alla quarta partita, persa addirittura d'arrivo dopo aver più volte sfiorato il colpaccio e aver finito invece per concedere il punto del pareggio a Livorno. Forse però, visto quello che è successo in questa sfortunata e negativa stagione, è giusto che la Valentina Sbottegone soffra fino all'ultimo secondo dell'ultima gara. La bella delle belle che si giocherà al Palacarrara e questo è un piccolissimo vantaggio. 40 minuti se non ci saranno tempi supplementari che ci diranno stavolta senza appello se i gialloneri valgono la terza categoria nazionale o se a gioire saranno i labronesci. Di sicuro nelle quattro partite fin qui disputate Toppo e compagni hanno dimostrato di potercela fare. Di sicuro coach russo ha cambiato qualcosa in positivo nella testa dei giocatori, inserendo all'interno dei neuroni un po' di convinzione, una goccia di autostima e tanta grinta. Con un po' di casino organizzato, come certi allenatori vecchio stampo amavano imbastire, con la necessaria lucidità nei momenti più importanti e perché no con l'aiuto del Palazzo la Valentina può continuare a sognare senza rischiare un brutto risveglio.